Il servizio Ranking Coach ti consente di collegare il tuo account Facebook al tuo piano. Una volta che avrai effettuato l'accesso alla dashboard, vai alla scheda Marketing locale nel menu di sinistra e poi clicca su Sincronizza profilo. Clicca sul pulsante Connetti posto accanto all'icona di Facebook. Assicurati di avere i diritti di amministratore per l'account che vuoi collegare, così come le impostazioni di autorizzazioni consentono alle app di terze parti di connettersi con il tuo Facebook. Una volta connesso, Ranking Coach inizierà a monitorare il tuo account e la tua attività sul social media. Tutte le attività e i rapporti su Facebook saranno disponibili dalla scheda Marketing locale cliccando su Statistiche.